Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sulla Formula 1. Oggi vogliamo parlare dei numeri di gara scelti dai 20 piloti del Mondiale 2023. Quasi tutti i piloti di Formula 1 scelgono il loro numero di gara e lo utilizzano per tutta la durata della loro carriera. Solo al campione del mondo in carica è concesso di utilizzare il numero 1. In questo video vedremo quali sono i numeri scelti dai piloti e anche qualche curiosità legata alla scelta dei numeri stessi. Fino al 2013 i numeri di gara dei piloti di Formula 1 venivano assegnati dalla Federazione Internazionale, in base alla classifica costruttori dell'anno precedente. Dalla stagione 2014 invece, ogni pilota è libero di scegliere il numero da apporre sulla sua monoposto. Una volta scelto, il numero solitamente viene mantenuto dal pilota per tutto l'arco della sua carriera in Formula 1. Solamente il pilota campione del mondo ha la facoltà di decidere se correre con il suo numero oppure utilizzare il numero 1. Solo Max Verstappen ha optato per questa scelta, rinunciando al suo 33 per apporre sulla sua Red Bull il numero 1 di campione del mondo piloti. Non fu così per esempio per Lewis Hamilton che, anche da campione del mondo, decise di mantenere il suo iconico 44, numero con il quale ha corso la sua prima gara di kart. La scelta del 33 per il pilota olandese era stata invece un po' un ripiego. Verstappen infatti avrebbe voluto utilizzare il numero 3, suo numero fortunato e utilizzato spesso in passato. Purtroppo tale numero era già stato scelto da Daniel Ricciardo e così Max optò per un doppio 3. Anche Charles Leclerc ha dovuto rinunciare a utilizzare il suo numero fortunato. Il 7. Tale numero era infatti già stato scelto da Kimi Raikkonen. Il monegasco allora decise di optare per il 16, giorno in cui è nato, 16 ottobre 1997, e anche perché 1 più 6 fa proprio 7. Scelta completamente diversa per Carlos Sainz. Il numero 55 che utilizza sulle sue monoposto di Formula 1 deriva dalla vicinanza del numero 5 con la S, lettera con la quale termina il suo nome e inizia il suo cognome. Qualcosa di analogo ha portato Lando Norris a scegliere il numero 4. Il pilota inglese della McLaren utilizza spesso il 4 al posto della lettera A, del suo nome. Legato invece alla data di nascita la scelta del numero 14 per Fernando Alonso. Il pilota spagnolo è infatti nato il 14 luglio. Anche se poi lo stesso numero è legato al kart con il quale vinse il campionato del mondo all'età di 14 anni. Un po' più articolata la scelta del numero 27 per Nico Hülkenberg, anche se sempre legata a una data. Il pilota tedesco, rientrante quest'anno in Formula 1 con il team Haas, sostiene che sia la somma del giorno, 19, e del mese 8 di nascita. Il 27 era un numero ambito da molti piloti in quanto in passato era stato utilizzato da Villeneuve, Senna e Alesi. Ultima curiosità per il 77. Scelto da Valtteri Bottas. Il pilota finlandese, un po' come Verstappen, non potendo correre con il numero 7, già scelto dal suo connazionale Raikkonen, raddoppiò la cifra. Come poi per Norris, anche Bottas utilizzò il numero scelto all'interno del suo cognome, sostituendo le due T. Se ti è piaciuto questo video, metti like, iscriviti al canale e attiva la campanella.